Il tempo non ha senso, orologi molli di da lì. Puoi calcolarlo ora, ma fra un attimo sarà già cambiato. Pertanto, siediti vicino a me e ridi. Sei la pietra preziosa perché le tue mani ha conosciuto ancora. Pietra di selciato, non di gioielleria. Le tue mani sanno cogliere se si tratta di occhi. I tuoi occhi sanno intuire se si tratta di mani. Mi ritrovo a scriverti mentre mi stai scrivendo. Mi ritrovo a parlarti mentre tu stai parlando. Eppure termina l'inchiostro, cade la linea telefonica. Forse perché tanta la nebbia che conferma il paesaggio, lasciando il viaggiatore stupito di come si possa ancora tacere. L'attesa di un cielo stellato sfiora i pensieri del marinaio mentre attraversa alto porto. Le stelle così desiderate hanno la luce di quegli occhi dove non si trova bussola. Grazie, grazie mille all'attore Maurizio Novelli per l'intensa lettura.